Trova! 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 Adesso, come siamo in donna, se lo dico io, perché non siamo in donna in cui può prendere l'interesse, è quella del critico dall'altra parte, se vedi che prende l'interesse, si fa altri, seguiamo la direzione, quindi adesso si dice più. Adesso dobbiamo tirare di cibi, i tappi che comunque lo prendo non hanno preso più cibi, però poi l'hanno fatto, se lo prende, lo prende, lo prende, adesso si, basta, 3, 2, 1, e se lo prende, Adesso non corre, no, sto conmimendo. Svegliamogli, ok Andrea, adesso Andrea c'è la tineria, che la fa pagare, mi dobbiamo insegnare ancora una cosa, aspetta finché arrivo, vai con calma, vai su, Dobbiamo allungare i tempi dell'abbaio, del suo ritrovamento, perché qui è facile, ma cerchiamo il punto di fare una sanità così, Sì, i loro sono abituati che dopo 10 secondi siamo lì. Una buccia super brava glielo prendiamo, ma non si passa.